I prodotti marchigiani a portata di click. A partire da oggi oltre 6.000 tipicità sono disponibili in una sezione dedicata nella vetrina Amazon Made in Italy, una selezione di eccellenze che spazia dalle specialità enogastronomiche alla moda, compreso il distretto calzaturiero, fino ai prodotti artigianali o di design realizzati a mano. Sono oltre 500 le piccole e medie imprese delle marche che vendono i propri prodotti su Amazon.it e di queste circa 100 fanno già parte della vetrina online, riuscendo così a raggiungere clienti in Italia e all'estero. Un importante progetto frutto di un'intesa siglata dalla regione e dal colosso del commercio e che prevede anche attività di promozione e di formazione digitale. Significa creare un marketplace virtuale ma sicuramente un'opportunità per gli imprenditori che ovviamente vogliono cogliere questa straordinaria occasione. Andando sulla vetrina si potrà compilare un form di manifestazione di interesse e quindi chiunque ha dei prodotti che vuole vendere nel mondo, grazie ad Amazon avrà una vetrina dedicata e grazie alla regione Marche che ha firmato questo protocollo d'intesa. Ci manca la capacità di arrivare sui mercati ad alto valore aggiunto, ha poi detto in conferenza il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Mirko Carloni. La pandemia ha proseguito, ha cambiato le abitudini commerciali degli italiani e i consumatori si rivolgono sempre più ai canali digitali. Amazon ha lanciato la nuova sezione anche grazie al contributo che deriva dal più ampio accordo di collaborazione con ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel 2020 i compratori online sono stati circa 2,7 miliardi, un bacione importante con una crescita media annua, prevista del 12% per i prossimi cinque anni. Il valore di tutte le transazioni digitali, incluse i servizi, nel nostro paese ha raggiunto i 39 miliardi. È evidente che l'impresa deve accompagnare questa trasformazione del comportamento del consumatore attrezzandosi anche sui canali digitali. Questo accordo ci consente di dare una visibilità ai prodotti delle imprese marchigiane in tutti i mercati dove noi operiamo, in Europa, in Spagna, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti e poi Giappone e Emirati Arabi. E a portare la sua testimonianza questa mattina è stato Alessio Adamo, contitolare di un'azienda di Castelfidardo in provincia di Ancona, che ha 45 dipendenti e che si occupa di prodotti casalinghi in plastica. Grazie alle vendite online il fatturato annuo è balzato del 2000% e nel giro di tre anni sono passati da un ricavo di 20-30 mila euro a un milione e mezzo di euro. Oggi tutti muniti di dispositivi quali telefonini o tablet hanno un rapido accesso a quello che è un prodotto o a tutto quello che riguarda un confronto di prezzi o una ricerca di qualcosa. Quindi oggi non possiamo come azienda esimerci dall'essere presenti sul commercio digitale in qualità di produttori, quindi portare avanti questa testimonianza oggi è una cosa bellissima perché essere presenti sui marketplace vuol dire far conoscere il proprio marchio e portare il Made in Italy nel mondo. Molte persone adottano la pandemia come una scusa secondo me, nella realtà questo passaggio era d'obbligo. Sicuramente, sicuramente il proseguimento del mercato digitale sarà sempre più avanzato, andremo sempre più avanti verso questo mercato in cui ormai le persone ne hanno fatto un'abitudine, un uso e costume quotidiano.